La salute è un diritto di tutti, tutti lo pensano e tutti lo dicono, forse, perché in realtà l'ipotesi di regionalizzazione del sistema sanitario sta rischiando di cantare il De Profundis al diritto, tanto che è già partita una campagna di sensibilizzazione dai manifesti piuttosto eloquenti. Da voi avete gli stati generali a Roma il 23 febbraio, quindi il tema sarà portato all'attenzione di tutti. Proviamo a spiegare cosa potrebbe cambiare se il servizio sanitario venisse regionalizzato in qualche modo, quindi ciascuna regione si farebbe le proprie regole, i propri ticket, i propri livelli essenziali di assistenza. Ha già detto quello che in effetti potrebbe accadere. Siamo in un momento delicatissimo. La classe medica e non solo la classe medica hanno subito preso e sanno qual è l'allarme che circola in tutta l'Italia perché potrebbe non esserci più un servizio sanitario nazionale unico. Già adesso con la regionalizzazione ci sono delle diversità, però c'è uno Stato centrale che dice cosa bisogna fare in tema della sanità qualora qualche regione si dovesse trovare magari in deficit. E sappiamo benissimo, noi siamo una delle regioni che abbiamo subito il commissariamento, adesso siamo in pieno di rientro e quindi c'è un'attenzione da pasta allo Stato centrale. Potrebbe venire a mancare anche questo controllo. Ogni regione potrebbe stabilire per esempio il numero di giovani medici che dovrebbero entrare nelle specializzazioni. Potrebbe stabilire anche nell'ambito della medicina generale che un percorso formativo diverso perché ovviamente c'è da segnalare che un fabbisogno di personale in questo momento c'è. C'è da essere preoccupati perché loro potrebbero anche decidere di abolire innanzitutto i ticket che sono ovviamente in questo momento già aboliti in buona parte in qualche regione che è in salute sotto il punto di vista sanitario. Ma potrebbero anche ridurre il gettito fiscale che è destinato alla sanità. E noi che siamo al di fuori di queste regioni dovremmo pagare di più per essere curati e per trovare soluzioni ai nostri bisogni. Noi potremmo anche essere costretti, oltre che pagare dei ticket locali per cercare di far sopravvivere un servizio sanitario regionale, potremmo anche essere chiamati a sborsare qualcosa di più per essere curati altrove. Già ho dei contatti con altri organismi di altre regioni perché dobbiamo veramente fare una campagna di informazione, dobbiamo spiegare qual è il pericolo, dobbiamo invitare il governo e nella fattispecie una parte del governo che sembrerebbe in questo momento essere più attenta, meno propensa a fare questo passaggio epocale, perché sarebbe veramente un dramma. Ecco, a questa forza di governo di 5 Stelle noi chiediamo maggiore attenzione a quelli che sono i bisogni di questa Italia, che in questo momento ha necessità di marciare unita.